La ricerca è importante ma è soprattutto un patrimonio di tutti, non soltanto di chi lavora nei laboratori o negli ospedali. Con queste parole Mario Pietracupa sottolinea il ruolo che la notte dei ricercatori Neuromed ha assunto nel corso degli anni per i cittadini e per il territorio. Come in passato anche l'edizione 2022 ha avuto al centro i giovani e le scuole, protagonisti del tour virtuale al Neuromed. Al centro dell'incontro il simposio internazionale sulla diagnostica per immagini digitale con cui è stata presentata la rete europea Euro Bio Imaging che mette le nuove tecnologie di diagnostica digitale al centro delle diagnosi sempre più precoci. Per Neuromed questa è un'opportunità grandissima, un'occasione per noi per continuare a mostrare e riconfermare la nostra eccellenza nell'imaging, nelle tecnologie, nell'imaging preclinico e clinico, però è anche un'occasione unica per i nostri ricercatori perché tramite questa rete Euro Bio Imaging è possibile accedere a grant di ricerca, è possibile accedere a delle opportunità per poter condurre la propria ricerca con strumentazione all'avanguardia che magari non sono qui ma sono, che so io, in Finlandia. La notte dei ricercatori è da sempre un momento per porsi domande più ampie, conoscere, studiare e impegnarsi non serve solo a costruire la propria carriera, è un modo per entrare nella complessità del mondo, una complessità che non va temuta ma abbracciata, ha detto il professor Luigi Frati, direttore scientifico del Neuromed. Non vi fermate a studiare quello che è nei libri e così via, ma apritevi alla curiosità, al vicino di banco, a quello che fa una cosa diversa, ricordatevi che studiando le luciole qualcuno ha messo a punto, perché lo studiava un amico suo, ha messo a punto il sistema che si chiama Elisa per fare le analisi e così via. Quindi il mondo poi è fatto in questa maniera, con la mente aperta. La giornata si è conclusa con l'apertura al pubblico dei laboratori per fare della scienza un patrimonio di tutti.